Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video, posso partire da Napoli, Napoli che vince 2-0 con Sassuolo, un Napoli che aguanta Milan e Verona a pari punti, capolisti, e va tutto bene, no? Va tutto bene, abbiamo vinto, quindi possiamo sparare i fuochi, no? Che purtroppo il tifoso medio deve essere così, il Napoli ha vinto, uguale, possiamo festeggiare, no? E non accetto neanche la frase, eh ma siamo alla seconda giornata, no? Non posso neanche accettare il fatto del ritardo della condizione fisica, no? Perché guadagnano milioni, guadagnano correndo un pallone, eh, ok? Sicuramente qualcuno a primo impatto dirà, ma un Napoli ha perso, ho vinciuto, per carità, io sono contentissimo della vittoria, per carità, hanno vinciuto benissimo, va tutto bene, no? Non va tutto bene, perché questa squadra può migliorare, e deve migliorare, perché tatticamente, Waiu, io ho visto errori assurdi, errori più confusione, Raspadori per me è un grande giocatore, ha giocato anche discretamente bene, il problema è che l'ho visto confuso, una volta esterno, una volta trequartista, una volta punta, una volta... Cioè non si capisce niente, Osiman, steve su l'is, Osiman appena prendeva il pallone, chi ci stava a servire, ad aiutarlo? Nessuno, 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 basta, poi... Allora, analizziamo con calma la partita, che, allora, non è uno sfogo per una sconfitta, perché l'abbiamo vinto, siamo contenti, eccetera, però se vogliamo analizzarla con calma, analizziamola, poi domani pagellone, è tutto un restaprisso. Napoli buono, nei primi venti minuti, abbiamo segnato, tutti contenti, tutti felici, ok? Perfetto. Da dopo il cooling break, da dopo la pausa, il Napoli è sparito. Il Napoli non ha creato più un gioco, ok, non che prima faceva azioni superbe, non ha fatto manco due passaggi consecutivi, difese e contropiede, due linee da quattro, infatti il Napoli ha giocato nella seconda parte del primo tempo con 4-4-1 e appena, appena, si sgretolava un pochino la seconda, fa la seconda linea di quattro, per esempio, se l'Obotka usciva a pressare, io questa cosa non la capisco che l'Obotka si andava a chilometro e chilometro per pressare dall'altra parte del campo, si creava un buco in mezzo. E il Sassuolo quante volte ci ha rifilato? Abbastanza, abbastanza. E se ci fosse stato l'Eao, per esempio, no, perché io guardo il futuro, io guardo il futuro, cercando di analizzare in maniera più obiettiva possibile il presente, se ci fosse stato l'Eao, avremmo subito gol, se non due gol o tre gol. Abbiamo subito delle imbucate assurde, ci sta una voragine tra difesa e centrocampo. Infatti la seconda parte del primo tempo non abbiamo proprio attaccato, abbiamo fatto fatica, perché così pensava da solo, perché si pensava più a difendersi che ad attaccare, che a prestare alti, che poi quando tu devi prestare alto, devi portare tutta la squadra a prestare, non tre, tre poveri Cristi. Che se la squadra avversaria supera e pressing viene inculato. Questo è il discorso. Il secondo tempo, leggermente meglio, grazie a Maxim Lopez, che è stato un coglione che ha provocato. Ha provocato, ha... Cazzo, va, ha mandato affanculo il quarto uomo, ha preso l'espulsione, e grazie all'espulsione siamo stati più libri, abbiamo fatto quello che cazzo volevamo, e abbiamo fatto il 2-0. Questo è il discorso. Questa squadra può migliorare, può migliorare, perché deve migliorare. Che voglio, se andiamo avanti così, io la vedo nera, io la vedo nera, la vedo nera. Vogliamo parlare dei giocatori positivi, parliamo dei giocatori positivi. Osiman, segno sempre. Di Lorenzo, Cyborg, Cyborg, non si stanca mai. Kvara, due palloni toccati, un assist superbo. E io non ho capito perché Garziano l'ha fatto giocare a titolare. Vabbè, a chi sa, onnipresente. A parte un passaggio sbagliato, è stato sempre pulito negli interventi. Olivera, ma neanche. Olivera ha sempre quel difetto che si fa sempre scavalcare alle spalle. Oltre a questo, quando aveva il pallone, a fianco non aveva nessuno a chiedarla. Perché Raspadori, boh, una volta a centro, una volta esterno, una volta a punta, si spostava sempre. C'era una confusione assurda che, boh, cioè 4-3-3, 4-2-3-1, boh, si capiva niente. Comunque, per molti va bene la vittoria. Pamboretti, va benissimo la vittoria. Però questa partita deve essere di insegnamento per il futuro. Deve essere di insegnamento per il futuro. E serve un fottuto centrocampista. Oltre che un esterno destro. Perché Politano, voglio Politano, è da mettersi le mani tra i capelli. È un egoista del cazzo. È un egoista di merda. Quando deve tirare, passa. Quando deve passare, tira. La maggior parte delle volte. Speriamo per il futuro. Io non sono contento. Lo ripeto, non ho paura di dirlo. Non sono contento. Però, l'importante è aver vinto, giustamente. Ragazzi, fatemi sapere la vostra. Forza a Napoli sempre. E sabato abbiamo la Lazio. Lazio che ha perso. Lazio che a Napoli verrà col dente avvelenato. Speriamo di migliorare in questa settimana. Forza a Napoli sempre. Ciao a mai.